Soldato palla di lardo, fammi ancora 100 piegamenti per il corpo di Maris! Su, uno, due! Buonasera Londra! I piegamenti sulle braccia sono un esercizio sottovalutato, possono essere un bellissimo finisher per il petto, allenano oltre a questo anche sia il bicipite nella flessione della spalla che il tricipite, i deltoidi e quello che non sanno anche la cuffia dei rotatori. Se imparate a fare i piegamenti sulle braccia con le spalle staccate dalle orecchie possono essere un ottimo esercizio anche per la vostra articolazione della spalla, ma vanno fatti bene. Obiettivo riuscire a farne almeno 30 come soldato palla di lardo.